Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un glitch dei soldi da fare da soli per tutti quelli che hanno la base operativa in prossimità di acqua, ragazzi, come in questo caso, vedete c'è acqua intorno, ci sono due o tre basi operative dove c'è l'acqua intorno. Per questo glitch non dobbiamo usare né centro operativo né Avenger né veicolo Pegasus. Allora ragazzi avete visto che io ho richiesto la mia Italy al Eclipse Tower 31, mi sembra 31 o 3, qualcosa del genere. Quindi aspettiamo che arrivi l'auto e passiamo al glitch ragazzi, è abbastanza semplice, l'unica cosa che vi serve sono delle Molotov, poi del resto non vi serve nient'altro. Quindi possiamo passare tranquillamente al glitch. Prendiamo il veicolo ragazzi E andiamo in direzione della base operativa dove c'è il pallino giallo, facciamo comparire la schermata e quando siamo in quella schermata premiamo il tasto PS e dopo di che o premiamo X oppure premiamo nuovamente il tasto PS per tornare in game. A questo punto ragazzi che cosa dobbiamo fare? Ci mettiamo dove c'è dell'acqua, vedete qui c'è dell'acqua e ci teniamo pronti. Quindi ci mettiamo in prossimità della base operativa da un lato e dietro abbiamo l'acqua, ricordatevi l'acqua ragazzi che è fondamentale. Lanciamo un paio di Molotov, 2-3 Molotov in questo caso perché comunque le ruote sono blindate quindi ci metteranno un po' a prendere fuoco. Aspettate 8-9 secondi ragazzi, mi raccomando fate bene attenzione, contate e quando sentite che la ruota ha preso fuoco andate in acqua ragazzi come sto facendo io insomma e non prendete fuoco perché altrimenti l'auto si distrugge e voi morite e rimanete a piedi. Dopodiché cercate di non stare vicino alla base operativa come ho fatto io e vi allontanate, vi allontanate un bel po' dalla base operativa. Non so se avete questa base venite fino qui e tornate indietro. Una volta fatto ciò, il glitch è fatto ragazzi, non dovrete fare nient'altro e adesso andiamo a vedere come. Una volta che siete giunti qui vi darà base operativa piena e andate a sostituire il veicolo. È abbastanza semplice. Adesso andiamo ad entrare, piggiamo X su questa schermata di base operativa piena ragazzi, mi raccomando. Entriamo nella base operativa e sostituiamo il veicolo. A questo punto una volta dentro l'unica cosa come ho già detto è sostituire il veicolo. Vi faccio vedere il veicolo, ve lo porto anche fuori perché comunque vi faccio vedere che ci butterà fuori dal veicolo ragazzi. Quindi per usare il veicolo dovete riavviare l'applicazione. Nel senso che se duplicate 6, 7, 8 auto dovete riavviare l'applicazione per poterle usare. Altrimenti non le potete usare, altrimenti se uscite succede questo ragazzi. Vedete? Vi fa scendere dal veicolo e non potete più accedere al veicolo. Adesso vi faccio vedere che nel garage dell'Eclipse Tower ho ancora la Progen Italy. Andiamo a vedere. Eccola qui ragazzi, come avete visto l'ho presa qui e la ritrovo qui. Detto questo, approfittate di questo glitch, un saluto a tutti, al prossimo video. Eccola qui ragazzi, come vi faccio vedere.